Musica Scuola, caos, vaccini, bambini a casa, piccoli senza certificazione, esclusi dall'Istituto da Osta Scura e quartieri spagnoli. Sono stati rimandati a casa dal dirigente scolastico, ma l'assessore Fortini chiarisce, c'è tempo per mettersi in regola. Sciopero e voragini, traffico in Tiltan Napoli, caos nel capoluogo partenopeo, linea 1 della metropolitana e quattro funicolari ferme, gravi disagi per la protesta dei lavoratori dell'azienda napoletana Mobilità, chiusa via Crispi per uno smottamento. Solfatara il bambino sentito dagli inquirenti, il PM che indaga sulla tragedia di Pozzuoli ha ascoltato la testimonianza del piccolo superstite della famiglia, inghiottita dal cratere. Inchiesta avviata per omicidio colposo, nuovi sopralluoghi per verificare le misure di sicurezza. La rabbia di Mastella, colpa dei servizi deviati, l'ex ministro dopo l'assoluzione lancia pesanti accusi ai servizi segreti. Si voleva destabilizzare l'Italia e invita il presidente della Repubblica, Mattarella, a visitare la città di Benevento. Violenza sulle donne, c'è una panchina rossa, oggi l'inaugurazione ad ospedaletto comune Irpino, che ospita una casa famiglia per le donne vittime di violenza. Commozione e solidarietà per la mamma di Noemi, vittima giovanissima di un brutale femminicidio. Stupro di Pagani, gli imputati sono liberi, scarcerati due ventenni accusati di aver violentato una sedicenne nel Salernitano, fa discutere la decisione del Tribunale ad incastrare ai giovani le tracce del proprio DNA sugli indumenti della vittima. Eccoci, buonasera, ben ritrovati con l'informazione regionale di 8 Channel. In primo piano il caos vaccini nel primo giorno di scuola, ai quartieri spagnoli, 18 bambini rifiutati perché non avevano la certificazione in regola. L'assessore regionale Fortini assicura, c'è tempo fino a marzo 2018, vediamo. Caos per il primo giorno di scuole e non solo per i problemi legati ai cantieri e ai trasporti pubblici. In un istituto di Napoli, la scuola d'Aosta Scura, nel centro storico di Napoli, ai quartieri spagnoli, 18 bambini non hanno fatto ingresso in classe. Il problema era legato alla vaccinazione obbligatoria. Luisa Francese, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Campania, spiega che inizialmente la segnalazione era relativa a 36 famiglie che non si erano presentate perché non avevano fatto l'autocertificazione, precisando che è l'unico caso che mi è stato segnalato questa mattina in regione. Delle 36 famiglie, aggiunge la francese, 18 sono già rientrati e ora dobbiamo vedere se gli altri non vengono perché ritengono di non voler vaccinare oppure se, come nel caso dei bambini già rientrati, non avendo il certificato hanno ritenuto di non presentarsi. Sarà ora l'Asla a intervenire contattando le famiglie dei bambini che non si sono presentati al primo giorno di scuola. E intanto a Salerno, nel primo giorno di scuola, ha fatto visita l'assessore regionale alla pubblica istruzione, Lucia Fortini. Si è creato qualche momento di panico perché molti non avevano capito, molte famiglie, non avevano compreso che bastava un'autocertificazione. Per cui per la vaccinazione c'è comunque tempo fino al 10 marzo. Le Asla però hanno tenuto, hanno tenuto, sono riuscite a vaccinare un numero di bambini veramente impressionante in pochissimi giorni. Quindi penso che anche questa sia una criticità che abbiamo affrontato con senso di responsabilità. E' primo giorno di scuola nel caos a Napoli, mobilità bloccata a causa dello sciopero dei trasporti indetto da tutte le sigle sindacali contro i licenziamenti in ANM. A peggiorare le cose uno smottamento in via Crispi. Lo stop è scattato alle 11 e per 4 ore la città di Napoli è andata letteralmente in tilt. La protesta ha coinvolto tutte le sigle sindacali del trasporto pubblico partenopeo unite contro i 200 licenziamenti annunciati da ANM. Oltre il 90% di adesione, bus nei depositi e linea 1 della metro ferma, così come si sono fermate le quattro funicolari. Ma mentre i lavoratori esultano, i cittadini imprecano per i notevoli disagi che proprio oggi, giorno di apertura delle scuole, sono stati costretti a subire. Io al ritorno dall'università sono dovuto scendere tutta via Medina fino a qui perché la stazione di via Toledo era chiusa. Non riusciamo a tornare a casa, siamo qui ad aspettare. Due ore. Io credo che lo sciopero sia giusto per i lavoratori, però giustamente poi penalizzano noi viaggiatori. Non funzionano autobus, taxi, metro, tram, filobus, qua in Napoli non funziona niente. Allo stop del trasporto pubblico si è aggiunta l'apertura dell'ennesima voragine in via Crispi, una delle principali arterie della città. La depressione, ampia una quindicina di metri, interessa l'intera carreggiata, inclusi marciapiedi. I tecnici del comune hanno interdetto per motivi di sicurezza anche il passaggio pedonale. Noi stiamo lavorando qua per comprare una presa elettrica che ci siamo dovuti fare il giro di mezzo a Napoli, purtroppo. Tantissimi disagi per la cittadinanza, ma soprattutto perché ci sono diverse scuole qui. Non è possibile che ogni minima pioggia sia pure torrenziale. Pezzi di città sprofondano in questo modo. Tra l'altro questa è una strada così bella, abbandonata a se stessa. La tragedia della solfatara Pozzuoli è stata sentita oggi dai PM l'unico superstite, il bimbo di 7 anni della famiglia veneziana. Omicidio colposo plurimo, l'accusa formulata dai giudici. Il piccolo Alessio, il bimbo di 7 anni, unico sopravvissuto della tragedia avvenuta nel vulcano solfatara di Pozzuoli a Napoli, dove hanno perso la vita il padre, la madre e il fratellino di 11 anni, è stato ascoltato dagli inquirenti che indagano per fare luce sull'accaduto. Stamattina inoltre si sono svolti nuovi sopralluoghi nel cratere. L'area resta perimetrata, chiusa al pubblico. Si sta cercando di capire la posizione esatta del crepaccio dove sono caduti tre componenti della famiglia Carrer, la messa in sicurezza dell'area e le indicazioni di pericolo presenti nella zona. Si va completando anche la raccolta delle testimonianze. Le prime furono acquisite dalla polizia appena intervenuta sul posto. Ora vengono ascoltate altre persone a conoscenza delle modalità con cui si svolgeva l'attività all'interno del vulcano. La famiglia Carrer viene assistita da un legale di fiducia che ha già preso contatto con i magistrati. Nel pomeriggio, prima di partire con gli zii e con la nonna, uno dei parenti, secondo quanto si è appreso da fonti ufficiose, si è assunto l'arduo compito di parlare dell'accaduto al piccino. In questi due giorni Alessio è stato seguito dagli assistenti sociali del comune di Pozzuoli e da due psicologi, ai quali ha chiesto sovente notizie della mamma e di incontrare papà e fratello. Tutti hanno taciuto ed hanno aggirato le sue richieste, troppo grande il fardello da sopportare. Una tragedia che ha scosso profondamente anche il governatore De Luca, che ha annunciato che la regione Campania si prenderà cura del piccolo Alessio nel corso della sua vita, così tragicamente segnata dalla perdita dei suoi cari. Per creare clamore si mostrano anche i servizi segreti. Un'accusa chiara, circostanziata, mossa durante la conferenza stampa e ribadita alla trasmissione porta a porta. Clemente Mastella ha un'idea molto precisa di cosa accadde nel 2008, quando un'inchiesta giudiziaria travorse lui, la sua famiglia e il suo partito. Un'accusa chiara, circostanziata, mossa durante la conferenza stampa e ribadita alla trasmissione porta a porta. Clemente Mastella ha un'idea tutta sua per spiegare quell'inchiesta giudiziaria che nel 2008 travolse lui, la famiglia e il suo partito, l'Udeur. Per creare clamore si mostrano anche i servizi segreti, parole sue. La vetrina nazionale, alla quale si è volentieri sottoposto nel corso di un tour de force riparatore, è stata anche utile ad un invito prima della sentenza ritenuto impossibile. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, venga presto a Benevento. Io non credo sia soltanto una vicenda giudiziaria, questo ne sono pienamente convinto. Ho ricordato che a porta a porta, un anno fa, Marcello Sorgi, che invita i giornalisti a richiamare, a verificare se questa notizia è vera, ma peraltro sono gli atti prodotti e i fotogrammi di porta a porta, dichiarò che lui venne a Napoli durante le mie vicende giudiziarie e a un certo punto era con altri colleghi al Gambrinus. Arrivò là un funzionario della Prefettura. Guardate bene, noi che abbiamo sempre detto a volte rapporto, procura, giornalisti, no, un funzionario della Prefettura. Gli consegnò i file, le intercettazioni in anteprima, non la procura, quindi voglio dirlo per cui non c'entrano. Cioè il che significa che c'era qualcuno legato ai servizi, strani servizi, non lo so. Certo è che tutta quella vicenda ha portato oggettivamente a uno sconvolgimento della storia politica italiana. A Napoli, in attesa del trasferimento dei 300 Rom nella caserma Boscariello di Miano, i cittadini hanno incontrato l'assessore alle politiche sociali, Roberta Gaeta. Altissima l'attenzione durante il confronto, urla e spintoni. Ed ora è scontro tra gli stessi abitanti di Miano e quelli di Scampia. Una guerra tra poveri perché nessuno vuole i Roma. Un confronto difficile, più volte interrotto da urla e tensione con la polizia fuori, pronta a intervenire. Il comune di Napoli prova a dialogare con i cittadini di Miano, che si oppongono all'arrivo di 300 Rom nella caserma Boscariello, messa a disposizione dal Ministero della Difesa dopo l'incendio del campo nomadi di Scampia. La promessa è sempre la stessa. Entro il 31 dicembre i Rom lasceranno la caserma e il progetto della cittadella dello sport potrà andare avanti. Qualcuno si fida sulla parola, come il comitato Miano protagonista, ma altri hanno preteso un impegno scritto dall'assessore, presentandole addirittura un modello di dimissione in bianco, in caso di mancato rispetto degli accordi. L'impegno credo di un ministro e di un sindaco valga molto più di un impegno scritto che magari potrebbe non essere mantenuto. Io ero assolutamente preparata a questo, ci sono venuta con consapevolezza, con l'obiettivo chiaro di dare risposta. Onestamente, lei è sicura che tre mesi saranno sufficienti per trovare poi una soluzione alternativa? È così che deve essere, quindi noi dovremo lavorare affinché questi tempi siano assolutamente rispettati. Scaduti 90 giorni, dove andranno i Rom? La soluzione si chiama Ex Centrale del Latte, in sostanza torneranno a Scampia ed è a questo punto che è scoppiata la rivolta. Devo mettere nella centrale del latte, la centrale del latte noi ce l'abbiamo bloccata con le coballe e la bloccheremo ancora. Qua ci stanno gli ex tenuti che da stasera in poi occuperanno la centrale del latte. Quando vengono scomprati tutti i sistemi del sindaco, mani amici o persone, cantieri 167, le sentinelle a Scampia, tanto usciamo pure noi. Una panchina rossa per dire no alla violenza contro le donne. Oggi l'inaugurazione ad ospedaletto, comunità che ospita una casa famiglia per le donne vittime di violenza. Commozione e solidarietà anche per la mamma di Noemi, la sedicenne, uccisa in Puglia. Una panchina rossa, la terza in Irpinia per dire no alla violenza contro le donne. Taglio del nastro ad ospedaletto ai piedi del Partenio. Poche ore dopo il femminicidio di Noemi, la sedicenne, uccisa dal suo fidanzato in Puglia. Penso che Noemi con il suo posto su Facebook ci ha lasciato un testamento che è un autentico valore da raccogliere. A lei sono rivolti cuori e menti di amministratori e donne, semplici cittadini, componenti e operatrici della casa famiglia Antonella Russo, che accoglie proprio ad ospedaletto le donne vittime di violenza che stanno cercando di rifarsi una vita. A Noemi pensa la madre di Antonella Russo, presente alla cerimonia e visibilmente commossa. Antonella, la giovane ragazza di Solofra, uccisa dal compagno della mamma per difendere quest'ultima dall'angheria dell'uomo. Ma intanto la violenza contro le donne aumenta, come spiega la presidente regionale dell'osservatorio fenomeno violenza sulle donne, Rosaria Bruno. Non solo non è diminuita, non solo in Campania, ma diciamo anche in tutto il resto sul territorio nazionale e oserei dire anche internazionale. C'è una recrudescenza e anche in questo momento un'acuità proprio del fenomeno. La situazione è molto critica, io vorrei solo che queste ragazze di oggi potessero svegliarsi e denunciare qualora succeda qualcosa. Ci vuole un modello culturale nuovo, altrimenti siamo sempre punti del capo. La donna è vista come proprietà, come possesso e quindi questo qua non è una cosa adeguata ai tempi nostri. È molto importante non lasciare da sola né la cooperativa né le donne che hanno bisogno dell'aiuto, soprattutto delle istituzioni. Torniamo a Benevento. Dopo i rilevi acustici effettuati alcuni giorni fa, l'inchiesta sulla morte della piccola Maria, nove anni, trovata senza vita nella piscina di un casolare, si arricchisce di un nuovo capitolo. Questa mattina è stato affidato al professore Franco Introna l'incarico di procedere ad una consulenza medico-legale sulla documentazione relativa alla piccola rinvenuta morta a giugno dell'anno scorso. Docente all'Università di Bari, noto anche come consulente in alcuni casi rimbalzati alla cronaca nazionale, come quello di Stefano Cucchi, Introna è arrivato poco prima di mezzogiorno a Benevento, atteso dal procuratore aggiunto Giovanni Conso e dal sostituto Maria Scamarcio. I appagani in provincia di Salerno scarcerati, i due ventenni accusati di aver violentato una sedicenne, fa discutere la decisione del tribunale ad incastrare i giovani le tracce del DNA sugli indumenti della vittima. L'avrebbero sequestrata e violentata a turno, vittima una ragazzina di sedici anni di Pagani, a testimoniarlo ci sarebbero le tracce del DNA dei suoi aggressori sui suoi indumenti. Ma Giuseppe Bombardino e Antonio Saggese, i due ventenni accusati di lesioni, sequestro di persone e violenza sessuale, ieri mattina al termine di un'udienza sono stati rimessi in libertà dal collegio del presidente Raffaele Donnarumma. La decisione è stata presa in considerazione dei quasi due anni trascorsi in custodia cautelare, tra carcere e domiciliari, della sentenza prevista per il 4 ottobre prossimo e per il comportamento tenuto dai due durante la detenzione. I ragazzi hanno così riottenuto la revoca delle misure cautelari, furono arrestati poco dopo la violenza e poi denunciati dalla vittima, che li conosceva entrambi. Quella notte la fermarono all'uscita di una cornetteria, minacciandola di morte e portandola con la forza via nella loro auto, fino ad un luogo appartato dove sarebbe stato consumato lo stupro. Poi la riportarono a casa dove la ragazzina svenne, soccorsa dalla madre, fu condotta in ospedale. L'esame sui tamponi vaginali evidenziò segni di violenza sul corpo della giovane, sollevando però qualche dubbio sulla violenza sessuale. Dall'esame della consulenza sui prelievi effettuati su jeans, giubbotto e slip della vittima, è stato però possibile accertare la presenza del DNA di entrambi i ventenni sugli indumenti. Ora si aspetta la sentenza che arriverà con rito abbreviato il 4 ottobre prossimo. Il presidente della provincia di Avellino, Domenico Gambacorta, non si candida al Parlamento. Lo ha annunciato questa mattina durante l'Assemblea dei Sindaci. Vediamo. Il bilancio di previsione 2017 e la crisi idrica sono i temi che sono stati affrontati oggi durante l'Assemblea dei Sindaci ad Avellino. L'argomento clou però è stato quello delle possibili dimissioni del presidente Domenico Gambacorta. Il numero 1 di Palazzo Caracciolo ha aperto l'Assemblea con un discorso sulle attività svolte, ringraziando i sindaci presenti e alla fine annunciato che il suo impegno per la provincia e come sindaco di Ariano Erpinio continuerà. Nessuno di noi è indispensabile. Tutti sono necessari. E credo allora che in questo momento, sottolino in questo momento, è utile che io da uomo delle istituzioni e da uomo di partito prosegua questo lavoro al servizio delle istituzioni che mi onoro di rappresentare, la provincia di Avellino e il Comune. di Ariano Erpino. Non mi dimetto dagli incarichi, proseguo in questo compito, impegnato a non far mancare mai il mio contributo in qualunque posizione dovesse trovarmi e senza quindi escludere da uomo di partito che nel caso in cui dovessero maturare condizioni diverse possa proseguire questo mio impegno con spirito di responsabilità al servizio dell'Irpinia in maniera diversa. Grazie a tutti. Cento quintali di vodka sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno. Secondo le fiamme gialle, gli alcolici erano destinati al mercato nero nazionale, imbottigliati in confezioni da 70 centilitri per un totale di quasi 10.000 bottiglie, nascoste sotto la finta dicitura di succhi di frutta. Il blitz è scattato presso alcune aziende del settore operanti nel Salernitano, tra le persone indagate con l'accusa di evasione fiscale nel settore delle accise e commercializzazione illecita di alcolici. Dopo quasi due anni di attesa, finalmente a Benevento, partono i primi lavori per la pulizia dei fiumi devastati dall'alluvione del 2015. Vediamo. Nel Sannio si parla ancora di alluvione, lavori lungo i due fiumi che attroversano il capoluogo Sannite e non solo. Ieri il presidente della provincia di Benevento Claudio Ricci ha fatto tappe in una delle zone, dove confluiscono il calore il sabato maggiormente danneggiate dall'alluvione e che ora sono al centro di progetti importanti. Abbiamo un progetto che movimenta vari milioni di euro e andrà in cantiere tra un po'. Però adesso bisogna fare dei lavori di urgenza, di somma urgenza, e io perciò sono venuto perché in questi giorni, proprio in queste ore, li faremo e ci saranno gli operai forestali. Ricci ha anche risposto al presidente della regione Vincenzo De Luca che nelle ultime ore aveva invitata in maniera schietta agli enti sanniti ad utilizzare gli operai idraulico forestali per la manutenzione dei territori. Lo stiamo già facendo, ha commentato il presidente Ricci, che poi lancia un appello. Ho ascoltato il presidente De Luca che consigliava di impiegare per questo tipo di lavori gli operai forestali. Io per la verità sono già mesi che come provincia di Benevento ci serviamo di queste maestrazze, chiamiamole così. C'è solo un problemino che sono mesi e mesi e mesi che come provincia anticipiamo noi gli stipendi a questi signori. Se la regione fosse un poco più celere nell'inviarmi come suo dovere le risorse sarei più contento. Mille medici da tutto il mondo per parlare di endometriosi, una patologia che affligge migliaia di donne. Il professore Mario Malzoni a Napoli per parlare di cure e prevenzione. Mille medici da tutto il mondo per parlare di endometriosi. Napoli si conferma la capitale della ginecologia. L'incontro si è tenuto questa mattina a Castel dell'Ovo con il gota della medicina endoscopica e punto di riferimento internazionale il dottore Mario Malzoni. Nel meeting saranno presenti circa mille ginecologi provenienti da tutto il mondo, da 52 nazioni diverse e parleremo con tutti loro degli ultimi ritrovati nel campo della terapia farmacologica, della diagnosi ecografica essenzialmente o con risonanza magnetica e della terapia chirurgica. Pur essendo una malattia benigna è una malattia che dà interessamento degli organi e quindi può compromettere la funzionalità degli organi stessi e in una grossa percentuale di casi, ahimè, determina condizioni di infertilità. All'incontro di questa mattina era presente anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Per me è un motivo di orgoglio perché sempre di più Napoli tra i vari primati sta raggiungendo quello dei congressi scientifici internazionali. Per quelle che sono chiaramente le competenze del Comune, il Comune fa tantissimo per la tutela delle donne, con le politiche sociali, con i vari sportelli di informazione e di assistenza che vengono messe in campo, soprattutto per le fasce più deboli, per le donne non solo vittime di violenza, ma anche delle donne che si trovano in una situazione di indigenza. Quindi noi stiamo soprattutto vicino con le politiche del welfare alle donne che hanno meno mezzi economici, ma certe volte anche di conoscenza per potersi curare e quindi per prevenire. Si chiude qui il nostro telegiornale, vi lascio le previsioni del tempo, subito dopo c'è il TG Sport. Orlando Matarazzo in regia, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.